L'amore vi deve rendere forti. 22 luglio 1977. Figli di Letti, permettete che vi rivolga brevi parole di saluto, di incoraggiamento e di compiacimento, nella memoria di Maria Maddalena di cui la Chiesa oggi fa memoria. Essa fu una grande santa, dai sentimenti fervidi e dagli affetti infuocati. Il suo passato di peccato fu come gettato in una fornace ardente d'amore, per cui meritò per prima di poter vedere Gesù risorto e portando l'annuncio agli Apostoli, di aiutarli a credere. La Maddalena, che è chiamata la peccatrice, rappresenta tutta l'umanità che, nella passione e nel disordine morale, offende Dio, ma è anche simbolo dell'umanità redenta, a cui il Signore perdona le sue molteplici iniquità per risollevarla, purificarla e salvarla. Di questa umanità fate parte anche voi come membra attive, perché ciascuno porta il suo contributo di male e ciascuno, nel limite della grazia che possiede, concorre alla riabilitazione dell'uomo. Tenete sempre di mira questi pensieri per poter rialzarvi dopo ogni caduta, e per saper capire coloro che, essendo caduti molto in basso, ha bisogno anche della vostra opera per rialzarsi. Non è il peccato che vi rende detestabili a Dio, ma è l'ostinazione in esso, che è indice di superbia. Se vi è cara la vostra anima, e se volete essere apostoli di bene, sappiate, come la Maddalena, piangere le tante colpe che ricoprono l'umanità. Sappiate però che l'amore, che deve seguire il dolore, è come una spugna imbevuta del sangue di Gesù, che cancella il male, e che ridona alle anime il primitivo splendore. Sappiate amare, figli. Non vi pesino i piccoli sacrifici, accettateli e offriteli per amore. Sappiate che l'atto compiuto dalla Maddalena di bagnare i piedi del Maestro con le sue lacrime, e di asciugarli coi suoi capelli, meritò, e meriterà di essere ricordato per tutti i secoli. Non tanto perché era una cerimonia in uso presso gli ebrei, ma perché era l'espressione di un dolore e di un amore perfetto. L'amore vi deve rendere forti. Dovete per amore vincere voi stessi, e vincere il mondo. Maria di Magdala diede questo esempio quando, ai piedi della croce, seppe sfidare la soldataglia e gli amici di un tempo. Il mondo d'oggi non è migliore di quello di duemila anni fa. Per essere vincitori, occorre essere cristiani nel vero senso della parola. Cristiani che osservano la legge e che sanno testimoniare la propria fede. Siate così, figli, e la mia benedizione vi sia d'incoraggiamento ed aiuto a fare sempre più e sempre meglio. Vi auguro una santa notte, e a coloro che sono venuti per la prima volta, dico di vero cuore, arrivederci. Dovete trovare qui quelle buone amicizie di cui lo Spirito Santo dice che chi trova un amico, trova un tesoro.